È accaduto sulla Tregnina nel pomeriggio nel territorio di Lentella. L'incidente è avvenuto al chilometro 670 in direzione Isernia. L'impatto è stato tra due auto e un furgone. La vittima è un uomo di 30 anni di Frosolone in provincia di Isernia. Mentre i feriti sono due molisani e un campano. Uno di loro è stato elitrasportato all'ospedale di Chieti per un trauma toracico. Gli altri sono in condizioni meno gravi e sono attualmente ricoverati a vasto.